Mario Cipollone. Roma. Ancora sul transetto di San Giovanni in Laterano. La donazione di Costantino, l'atto con cui l'imperatore regalava a Papa Silvestro un numero imprecisato di vasi d'oro e d'argento, la basilica e il palazzo del Laterano, nonché la città di Roma con le relative milizie e addirittura l'intero occidente, fu per molti anni una mina vagante. Questo perché metteva in forza i lasciti, l'eredità e i possedimenti di molti principi subordinandoli alla benevolenza del Papa. Ovvio che in parecchie corti europee, solo a sentirne parlare, saltavano sulle sedie e davano in escandescenze. Per sette secoli però, nessuno mise mai veramente in dubbio il documento che la comprovava. Nemmeno Dante Alibieri che pur era uomo acutissimo e l'avversava non per interesse personale, ma perché la riteneva una fonte di guai anche per la Chiesa. Lorenzo Valla era un canonico e un filologo. I due mestieri, uno antichissimo l'altro da poco inventato, erano compatibili, ma, fosse stato obbligato a scegliere, l'uomo non avrebbe mai rinunciato al secondo. C'è da giurare perciò che quando, attorno al 1440, approcciò il tema donazione lo fece con l'occhio neutro dello scienziato. E questo quando anche, come insinuano alcuni, non fosse stato mosso solo da amore per la verità e da scrupolo professionale, ma pure dal proposito di ripagarsi lo stipendio. Alfonso V. Maiuscola, il re di Napoli cui faceva il segretario, non poteva essere più diverso dal suo predecessore Ladislau. Mentre questi, pochi anni prima, aveva messo a ferro e fuoco Roma nel tentativo impossibile di unificare l'Italia con 500 anni di anticipo, Alfonso V. Maiuscola ammetteva di governare Napoli non per diritto proprio, ma per gentile concessione del Papa cui riconosceva la titolarità del regno in base alla donazione di Costantino. La cosa se contribuì a meritargli l'appellativo di Magnanimo gli costava però 7000 ducati l'anno. Questa era la somma, contenuta in un vaso d'argento fissato alla sella di una mula bianca che, per tradizione, offriva al Papa ogni anno in pagamento del censo, la famosa Chinea. La bestia si presentava all'appuntamento profumata come una rosa e, al momento clou della cerimonia, non solo non scalciava, ma pare che si inginocchiasse con grazia di una damigella, quasi fosse consapevole di trovarsi in presenza della maestà del pontefice. Lorenzo Valla che da filologo si fidava poco delle chiacchiere, volle vedere le carte. Esaminato il documento della donazione punto per punto, colse diversi anacronismi e contraddizioni che, a suo parere, impedivano a Costantino di donare e a Papa Silvestro di ricevere. Siccome erano passati i tempi in cui vero e falso erano subordinati all'etica, l'erudito si convinse che il documento fosse falso. Una scoperta clamorosa che ribaltava la situazione, consolidava i possedimenti di molti principi e di contro metteva in forse quelli della Chiesa. In tempi appena più antichi o appena più moderni, il Papa l'avrebbe mandato al rogo all'istante. Naturalmente non come bugiardo peccato che se punito con una pena così severa avrebbe dimezzato la popolazione europea ma come eretico. Lorenzo Valla, infatti, con quelle sue affermazioni sottovalutava la potenza divina, ne metteva in dubbio l'onnipotenza, lo rendeva succube di un'incongruenza. Dio invece giustificava ogni assurdo come aveva spiegato, 1200 anni prima, Tertulliano, scrittore, filosofo e apologeta che per poco non era diventato dottore della Chiesa. Questi, nel caso specifico, avrebbe ritenuto assolutamente possibile una cosa impossibile, ossia far scrivere a Costantino di Costantinopoli nel 315, quando la nuova città non era nemmeno nella mente di Dio se solo l'onnipotente l'avesse voluto. Siccome però con l'avvento dell'umanesimo anche Dio doveva rispettare la logica e la consecutio temporum, Niccolò V maiuscola 14, 47, 14, 55, da un lato mandò l'imputato a processo e dall'altro invitò il tribunale alla prudenza. I giudici capirono l'antifona, non assolsero e non condannarono, continuarono a rinviare le odienze. E quando il processo fu affossato, oggi diremmo prescritto, il Papa finalmente poté nominare Lorenzo Valla professore di retorica. Il suo successore poi, Callisto II, 14, 55, 14, 58, lo promosse addirittura segretario apostolico perché era uno dei pochi a Roma a conoscere bene il greco. Per disquisire con i cristiani ortodossi, infatti, sempre abueriti nonostante nel frattempo avessero perduto Costantinopoli, ci volevano specialisti perché il greco non era come il latino, chiaro e univoco, ma aveva un'infinità di sottilezze e sfumature. Una storia piena di colpi di scena dunque e, per di più, con un finale a sorpresa. Infatti, quando nel 1457 Lorenzo Valla morì, o tempo dopo, ebbe una sepoltura clamorosa. Il suo sarcofago fu riposto nella cappella del crocefisso nella testata destra del transetto della Basilica Lateranense, ovvero nel Chiostro. Praticamente nella Tana del Lupo. Se i papi del Rinascimento cercarono di conciliare l'inconciliabile, vedi gli affreschi nella sala di Costantino al Vaticano a proposito della conversione del primo imperatore cristiano, i papi della controriforma cambiarono strategia, anziché blandire, ignorarono il filologo. Pressati dai protestanti, alla scienza preferirono la propaganda. Così quando, in vista del giubileo del 1600, il transetto dell'Aterano fu rifatto, Clemente VI, 15, 92, 16, 05, ordinò di affrescarne le pareti con episodi della conversione di Costantino tratti non dal racconto del vescovo Eusebio, in cui la donazione è assente, ma dalla vita di esse. Silvestro. E a ispirare il papa non fu un oscuro e ignorante teologo, ma il celebre cardinale Cesare Baronio, autore tra l'altro di una monumentale storia della Chiesa in dodici volumi. Uomo così dotto da meritare l'appellativo di quinto evangelista. Lui lo scritto di Lorenzo Valla non solo lo conosceva a memoria ma, probabilmente, lo condivideva pure.